Assenza di operatori economici per la gara dei locali di proprietà de Maniale e ritiro da parte del vincitore di uno dei due chioschi. Succede nel quartiere San Girolamo a Bari, zona lungomare. Situazione che preoccupa il sindaco Antonio De Caro, comunque pronto a rilanciare. Ho riscontrato l'assenza di operatori economici per la gara dei locali di proprietà de Maniale nella zona di San Girolamo. E anche il ritiro da parte del vincitore di uno dei due chioschi. Non vorrei che ci fosse qualche pressione da parte di qualcuno. Avevo già lanciato l'allarme qualche giorno fa, prima della scadenza, perché avevo sentore che non ci fosse una particolare partecipazione. Voglio dire a tutti che noi ripresentiamo il bando, che in quel quartiere c'è la presenza dello Stato. E quel quartiere oggi è diventato il quartiere del tempo libero, degli eventi culturali, degli eventi sportivi. Degli eventi musicali che facciamo ogni anno, soprattutto nel periodo estivo. E quest'anno torniamo a farli in maniera ancora maggiore rispetto agli ultimi due, perché siamo finalmente usciti dal periodo della pandemia. Sarà mia premura in questi giorni, con il prefetto e il questore, fare anche dei sopralluoghi su quei luoghi. Chiedere la presenza loro per invogliare gli operatori economici della nostra città a partecipare al bando per l'affidamento di questi locali, che ripeto sono locali di proprietà dello Stato, che vengono messi a gara da parte del Comune.